Buongiorno carissimi amici di Officina del Pilota, in questo video vi faccio vedere come ho riparato la mia BMW X3 ho diviso questo capitolo in due paragrafi, quello che state per vedere oggi, che dura 10 minuti e quello che vedrete domani alle ore 12 sullo stesso canale, quindi rimanete connessi Come va la quarantena? Scrivetemi qua sotto qualcosa nei commenti ragazzi mi stanno vedendo migliaia di idee per comunicare con voi, per stare un po' insieme su questa piattaforma in questi giorni molto difficili però l'importante ragazzi è che rimaniate a casa, rimaniamo tutti a casa perché bisogna che questa pandemia c'essi il prima possibile quindi vabbè dai nel frattempo godiamoci questo video, vi abbraccio e ci vediamo domani alle ore 12 con il secondo paragrafo di questo capitolo che non è questa, questa arriva la settimana prossima bella, quanto sei? Bella ragazzi, è bella, pure si va piano con lei però è bella da un vino invece, non è inolto Sì, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Sì, non è vero, non è vero. Sì, non è vero. Sì. Sì. Sì, non è vero. Un po' di tape per mascherare i bordi. Sì. 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 Sì, non è vero. Questo è un tacchetto della Malco, è diverso agli altri perché è flessibile. Carta abrasiva 2,40. Ho preso lo shape esatto e quindi andrò a carteggiare, ma prima devo mascherare. Sì, non è vero. Sì, non è vero, non è vero. Sì, non è vero, non è vero. Sì, non è vero. Sì, non è vero. Sì, non è vero. Sì, non è vero. Sì. Sì. Sì, non è vero. Sì, non è vero. Sì, non è vero. Sì. Sì, non è vero. Sì, non è vero. Sì, non è vero. Sì, non è vero. No è vero. No è vero. Sì, non è vero. Sì, non è vero.